chi è l'amore della sua mamma? chi è l'amore della sua mamma? è lui! bacini alla mamma, i bacetti alla mamma, i capelli sono i miei, tornado, chi è il mio cucciolone coccolone? un bel ruttino, bravo! oggi abbiamo il nuovo allenatore di tornado, lui sarà quello che mi aiuterà nella doma di tornado perché è il nipote più grande no? eh vabbè, ma loro ormai sono grandi grandi, stanno dietro la zia col cavolo bravissimi, bravi tornato, cosa ti sta impiccando? ti stai rilassando? no, ma si scema grazie a tutti grazie a tutti